Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla bella notizia che interessa i residenti della frazione balneare di Manfria a Gela. Dopo tante polemiche da ieri la zona all'acqua che sgorga dai rubinetti, il servizio idrico è attivo 24 ore su 24, così facendo non sarà necessario ricorrere al servizio di autobotti. Brindisi con acqua potabile estratta da una delle circa 409 utenze attivate nella frazione balneare di Manfria. Dopo tante polemiche ieri finalmente la zona all'acqua che sgorga dai rubinetti e per l'occasione è stata celebrata una festa che si concluderà domani alla presenza tra gli altri del sindaco Domenico Messinese, del presidente del consorzio Piana Marina Giuseppe Regnolo e dei tecnici della divina Acquedotti. Il servizio idrico è attivo 24 ore su 24, così facendo non sarà necessario ricorrere al servizio di autobotti. Oggi si concretizza una favola che a Gela ogni elezione veniva ripetuta, quella di portare l'acqua a Manfria. Noi in realtà grazie all'aiuto dei cittadini di Manfria che sono consorziati, grazie a un'impresa che è la divina acqua che ha fatto i lavori abbiamo reso quella favola in realtà. Noi abbiamo appoggiato il volere dei cittadini, chiamo per l'acqua pubblica e sicuramente quando un acquedotto viene realizzato dagli stessi cittadini sicuramente è un acquedotto pubblico perché è fatto da più componenti di una parte collettiva, non è sicuramente un qualcosa che serve solo a dare il reddito a una società. Noi in modo molto testargo abbiamo creduto che sia importante dare i servizi oggi e non favole domani ed è per questo che hanno fatto in modo tale che è stato possibile realizzare la condotta che era la cosa fondamentale. L'uniché per fare la fornitura che la fa Saltacqua in questo territorio è soltanto un dettaglio. L'importante è che finalmente a casa dei cittadini di Gela che abitano nel quartiere di Manfria l'acqua esce dai rubinetti, acqua di buona qualità che si eroga 24 ore a 24 ore a 24 ore. Giuseppe Raniolo, presidente del consorzio Piana Marina. Siamo riusciti così come è stato promesso nel tavolo tecnico di marzo in presenza dell'amministrazione comunale noi già avevamo temperato all'erogazione di acqua nel villaggio e in contrata Manfria. Questa è una spinta in più che ci hanno dato i nostri consorziati perché in massa si sono consorziati e hanno gridato a voce alta vogliamo l'acqua. Noi non abbiamo fatto altro che soddisfare le esigenze dei nostri consorziati ma questo è un punto di partenza per far emergere questo villaggio e cambiare. Questo è un messaggio che faccio ai nostri compaesani gelesi. Questo è un punto di partenza per cambiare, cambiare la faccia della nostra città. E adesso parliamo di sicurezza in mare e in spiaggia con i consigli utili che giungono dagli uomini della Capitineria di Porto di Gela. Buongiorno dalla Guardia Cossiera di Gela, siamo sempre qui nella nostra sala operativa del compartimento marittimo di Gela e oggi parliamo delle ordinanze di sicurezza a bagnare. L'ordinanza 7 2016 che è quella remessa dal capo del circondario, dal comandante Carosia e che disciplina tutte quelle che sono le norme e tutti gli obblighi che i concessionari devono avere, devono rispottare per la stagione bagnare. Inoltre, oltre questo, ci sono degli obblighi da parte per i diportisti e anche per chi effettua pesca sportiva o professionale. I principi contenuti dell'ordinanza di sicurezza a bagnare sono abbastanza semplici, sono quasi come quelli dell'anno scorso. Abbiamo chiaramente il bagnino deve avere le dotazioni quelle previste, come la maglietta rossa, come il fischietto di salvataggio e come l'anno scorso i concessionari sono obbligati ad avere il defibrillatore esclusivamente per le concessioni che effettuano attività sportiva, sia agonistica che non. La pesca professionale e sportiva soprattutto è vietata dalle 8 del mattino fino al tramonto, così come anche navigare oltre i 300 metri dalla costa è obbligatorio appunto per i natanti e le imbarcazioni a riporto a tenersi a questa distanza dalla costa. Inoltre nell'ordinanza di sicurezza a bagnare sono prescritte alcuni suggerimenti che la Capitania di Porto ci dà o dà a chi usufruisce il mare per fruire meglio del sistema spiagge. L'importante che va di pari passo con l'ordinanza di sicurezza a bagnare è l'ordinanza regionale che appunto disciplina alcune norme fondamentali come quella dei cani spiaggia che sono vietate appunto il transito e degli animali di qualsiasi tipo sui litorali delle coste siciliane e anche accendere fuochi spiaggia e campeggiare. Inoltre ricordo che il numero blu 1530 è attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Gli anziani e i soggetti portatori di handicap residenti a Gela la possono presentare in stanza per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST relative all'anno 2017. Le domande corredate dalla documentazione prevista devono essere presentate al protocollo generale del Comune entro il prossimo 26 agosto. Il modello è disponibile negli uffici del Segretario Sociale in Viale Mediterraneo. Sarà presentato mercoledì 24 agosto alle 21.30 al Club Vela di Gela il libro Social Gossip scritto da Francesco Pira e Antonella Cava. Ad aprire i lavori saranno il presidente del Club Luigi Nastasi ed il vicepresidente e responsabile delle attività culturali Sergio Antonuccio. Coordinerà il dirigente scolastico Agata Quelli. Interverrà Rita Salvo, docente di letteratura del liceo Eschilo e presidente della FIDAPA. L'evento è organizzato in collaborazione con la libreria di Felicia Randazzo di via Parioli. Manca un mese all'apertura generale della stagione venatoria 2016-2017 in Sicilia. Il calendario definitivo è stato pubblicato proprio qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale in cui vengono indicati anche tutti i dettagli relativamente ai periodi, modalità, nonché limitazioni per chi effettua tale attività anche in relazione ai luoghi e specie animali cacciate. La settimana venatoria comincia il lunedì e termina la domenica. Ciascun cacciatore, munito di tutti i requisiti richiesti per poter effettuare tale attività, può scegliere tre giornate di caccia settimanali, escludendo però i giorni in cui l'esercizio viene vietato, e cioè il martedì e venerdì. È consentito cacciare durante tutta la giornata, a partire da un'ora prima il sorgere del sole, sino al tramonto. Il 18 di settembre dunque, per gli appassionati di caccia, sarà possibile effettuare tale attività, mentre vengono concessi solamente gli appostamenti temporanei per alcune specie di animali, già a partire dai primi di settembre, in occasione della preapertura. Proseguono gli appuntamenti con l'estate giolese. Domani, a partire dalle 21, al Lungomare Federico II di Svevia, tornano le attività degli Happy Events, dedicati ai bambini e ai loro genitori. Sul Sagrato della Chiesa Madre, invece, i Chroma Ensemble, eseguiranno le più celebri colonne sonore nello spettacolo, note da Oscar, per la direzione artistica di Giovanni Cultrera. incontrata a Giardinelli, serata dedicata alla musica folk. In Piazza Roma, invece, l'Accademia di Arti Sceniche porterà il format di successo senza tempo. Si darà domenica 28 agosto alle 21, alla Rotonda Est di Macchitella a Gela, il premio nazionale riservato ai cantanti Eleonora Lavorre. L'iniziativa è dell'associazione Elevision, con il patrocinio della regione e del comune. Un evento unico in Sicilia. Orchestra dal vivo, ospiti nazionali, 20 voci, scelte in tutta Italia. La manifestazione sarà presentata da Pamela Olivieri e da Angelo Martini. Si sta per avvicinare ormai l'inizio del nuovo anno scolastico 2016-2017, e i giovani studenti, dalle elementari sino alle superiori, stanno approfittando delle ultime settimane di vacanze prima che la campanella ritorni a suonare. C'è chi comincia già ad acquistare tutto l'occorrente per la scuola, zaini, astucci, quaderni e presto si penserà anche i libri. Una spesa non indifferente per le famiglie italiane, che ogni anno si ritrovano a fare i conti con l'acquisto dei libri di testo per uno o più figli. Intanto però ci sono buone notizie per le famiglie che hanno presentato le istanze per la fornitura totale o parziare dei libri per l'anno scolastico 2013-2014. Presto infatti verranno distribuiti tra gli aventi diritto i fondi assegnati dalla Regione. Questa importante comunicazione proprio a maggio del 2016 che riguarda la possibilità di ottemperare quelle che sono le leggi vigenti per la ripartizione di alcuni fondi che naturalmente saranno devoluti alle famiglie che ne hanno fatto istanza per la fornitura parziale o totale di libri. Naturalmente stiamo parlando di alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono più di 80 mila euro che andranno distribuiti a queste famiglie, naturalmente ricordando che hanno fatto istanza dietro presentazione anche degli scontrini fiscali ed è assolutamente importante che quantomeno si cominci a distribuire questi fondi. Il comparto scolastico è un comparto molto impegnativo da tutti i punti di vista. Sono, e parlo naturalmente in Italia, in generale sono più di 668 mila famiglie quelle che hanno diritto a delle forniture gratuite o parziali dei libri. Sono famiglie naturalmente il cui il reddito ISEE è inferiore, nel nostro caso parlo della nostra regione 10.600 qualcosa mentre in generale il reddito ISEE al quale fa riferimento appunto la normativa è oltre i 15 mila euro. Di queste famiglie, di questi alunni, oltre 668 mila alunni di cui parlavo, naturalmente la distribuzione è molto disomogenea. Lei consideri che nella regione Veneto, per esempio, sono circa il 7% mentre in Sicilia gli eventi di diritto sono oltre il 30% E le famiglie giolesi degli alunni delle scuole statarie e paritarie possono presentare in stanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. La domanda di partecipazione assieme ai suoi allegati dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il prossimo 30 settembre ed esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente. Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ma anche lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Rieccoci in seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi dell'accordo stipulato oggi tra Club Vela e Associazione Orizzonte Gela. Vediamo di cosa si tratta. C'è un calendario fitto di appuntamenti per l'Associazione Sportiva Orizzonte Gela e per preparare al meglio gli atleti il Club Vela offre ospitalità. E quanto sancito questa mattina? I ragazzi si alleneranno nella struttura che sorge sul lungomare Federico II di Svevia. saranno impegnati nel tennis tavolo e nel rugby due discipline che saranno presenti per la prima volta ai giochi nazionali del 2017. Martedì noi inizieremo a fare le nostre attività nelle strutture del Club Vela in diversi sport. Questa è una boccata d'ossigeno per l'Associazione Orizzonte che permette ai ragazzi nostri di poter usufruire di spazi per migliorare le loro abilità psicofisiche e soprattutto quel progetto educativo e abilitativo di Special Olympics che vuole i ragazzi con disabilità intellettiva inseriti bene nella nostra società. E questa è un'opportunità che ci permette di sviluppare diversi sport tra cui alcuni nuovi come il rugby e il tennis tavolo che noi qui possiamo esercitare nel pomeriggio di ogni giorno. Un bel connubio quello sancito questa mattina, Orizzonte e Club Vela assieme. Abbiamo stipulato un protocollo d'intesa e siamo orgogliosi di poterli essere utili per l'attività sportiva che essi intraprendono. Per noi è un punto d'onore e d'orgoglio dare la possibilità a questi ragazzi che hanno difficoltà anche nel trovare strutture che hanno difficoltà nel trovare occasioni per potersi regolarmente allenare. Quindi quando Natale Salucci mi ha proposto questo tutti del direttivo siamo stati felici di accontentarli. Vorrei dire solo una cosa, questi ragazzi sono eccezionali. La città di Gela non deve dimenticarli. Ci danno lustro e onore in tutte le manifestazioni nazionali e internazionali. Questi sono i figli pregiati di questa città e con tutti i problemi che Gela ha dovrebbe veramente risaltare l'attività e la grande passione soprattutto dei genitori che soffrono di mancanza molto spesso di attrezzature o di luoghi dove riunirsi per esplicare queste attività. Le barriere architettone vanno superate però hanno bisogno forse più affetto, più presenza, più colore dei parenti e degli amici. Io dico, questo ragazzo che ha nome e cognome mio mi porta a inorgoglirmi, mi porta a dire guarda in famiglia che sappiamo. Spero, spero che altri, altri abbiano pure questa convinzione che è fondamentale per me. Concerto del trio Echi Armonici domani alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine nell'ambito dell'iniziativa all'estate gelese con la musica colta promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione con il Comune. Si esibiranno Maria Provenzano, Pienoforte, Angela D'Amato, Flauto e Giuseppe Cumbo, Oboe. E ora parliamo di calcio. Comincia la nuova stagione agonistica per il Gela. Domani, debutto in Coppa Italia contro la San Cadaldese a Licata. Si tratta di gara unica. Chi vince proseguirà il cammino nella competizione. Vediamo. Si comincia domani con l'inizio previsto alle 16 sul neutro di Noliotta di Licata vista l'indisponibilità del presti. Il Gela farà il suo debutto nella stagione agonistica 2016-2017. I biancazzurri sfideranno la San Cadaldese, gara unica di Coppa Italia. Chi vince proseguirà il cammino nella competizione. Un antipasto di quello che poi succederà nel campionato di Sredì. Sì, perché Gela e San Cadaldese si rincontreranno successivamente nell'ambito della quattordicesima giornata. Già la passata stagione si sono sfidate bene quattro volte. In Coppa Italia passò il turno il Gela, 4-0 all'andata e 0-3 al ritorno. In campionato, invece, a San Cadaldese la formazione gelese precipitò perdendo per 4-0, ma si rifece al ritorno vincendo per 1-0 grazie allo splendido gol realizzato da Bonafini. E quella vittoria diede il via per poi vincere il torneo di eccellenza. Tornando alla partita di domani, l'allenatore Toto Bruculeri dovrà inventarsi una difesa. Mancheranno, infatti, Strumbo, infortunato, Biancola, che ha rescisso il contratto, ed Evola, a cui non è arrivato il transfert dalla Spagna, dove l'attreta ha giocato nella passata stagione. Domani sarà la prima anche da presidente di Francesco Tuccio, nipote di Angelo Tuccio, che ha preso le redini del club di Via Niscemi. Per la gara di domani, la questura di Agrigento ha vietato la trasferta ai tifosi della San Cadaldese per motivi di ordine pubblico. La motivazione è legata alla rivalità tra i tifosi della squadra di San Cataldo e quelli della Licata. Ricordiamo che la partita domani avrà inizio alle 16. Chi entra a far parte della famiglia Gela Calcio sa che si trova benissimo. Anche quest'anno abbiamo creato una bella famiglia. Non si parla di salvezza per il Gela Calcio? No, no. L'obiettivo... Intanto partiamo per fare un campionato al solito da protagonisti. Poi se l'obiettivo è la salvezza o è il play-off o qualcos'altro, si vedrà nel corso del campionato. Però conoscendo la realtà giolese e conoscendo anche i nuovi arrivati, secondo te questa squadra a cosa può puntare? Allora, questo ad oggi non te lo so dire. Anche perché non so se il mercato è stato già chiuso o deve arrivare qualcun altro. Ad oggi ti posso dire che abbiamo uno splendido gruppo formato da under veramente valorosi che lotteranno insieme a noi grandi per fare un gran bel campionato. Intanto la società bianco-azzurra nelle ultime ore ha tesserato un nuovo giocatore. Si tratta del centrocampista Corrado Montalbano, 26 anni, ex Trapani, Ribera Siracusa e Leon Fortese. Il giocatore già da domani potrà scendere in campo. Natale al Basilico. Si tratta della rappresentazione teatrale che sarà portata in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela martedì 23 agosto alle 21.30 nell'ambito della rassegna Teatro Sotto le Stelle. Appuntamento all'arena all'aperto dell'antitodo a Macchitella. Il costo del biglietto, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi. Vi auguriamo un buon fine settimana. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.